bella la musica in sottofondo perché in questo ottavo casting c'è una grande energia sono mister loco vi presento l'aspirante avvicinati cara misto polini 2012 numero 93 nome e cognome chiara russo chiara russo di gorizia quanti anni hai 21 21 che fa rima con 1 1 va bene allora quanti anni hai 21 che fa rima con 1 1 allora cosa fai di bello nella vita giurisprudenza all'università di trieste quindi quindi diventare un notaio avvocato giudice giurista d'impresa non ti allargare mo scegli una una tra tutte quelle allora è chiaro è chiaro vabbè si è ambiziosa ambiziosa e competitiva e competitiva e se anche una ragazza secondo me che si piace mettere in discussione perché ti sei scritta misto polini esatto come mai perché oltre ad essere brava sono anche bella brava la convinzione così brava io posso non posso che ditti che hai ragione ecco ok allora senti cosa fai nel tuo tempo libero a parte immagino studiare tantissimo si suono il pianoforte e ormai da un'eternità che bello strumento bellissimo grazie rilassante rilassante e poi insomma vado a correre vado in palestra vado in piscina insomma le solite cose vi roti ho capito sei fidanzata sì da due anni bello sì bello come è bello nel senso bello bellissimo descrivicelo alto occhi azzurri i capelli scuri palestrato un principe azzurro azzurrissimo che bello va bene allora senti il tuo sogno l'abbiamo già detto ma il sogno da modella così perché noi siamo in questo mondo no ma fotomodella anche di intimo guarda gli uomini stanno grattando lo schermo è appunto così ho più chance vabbè avranno anche modo di vedere in queste interviste la tua parte in costume esatto cara allora ben arrivata misto polini grazie divertiti senz'altro adesso puoi dire salutare chi vuole ok saluto prima di tutto francesco il mio amoroso tutti la tutta la mia famiglia e tutti gli amici che spero mi voteranno in bocca al lupo crepi ciao ciao ciao